Se vi dicessi che si può andare in moto in camicia senza rinunciare alle protezioni, mi credereste? Davide Ioimo, Sales Manager Italia di Revit, ci spiega come è possibile qui live dallo stand Revit ad EICMA 2018. Buongiorno a tutti, per la stagione 2019 Revit vuole innovare completamente i modi di viaggiare con le cafe race classiche e vintage bike, per cui vi proponiamo la camicia Tracer, una camicia completamente in mesh Power Shield con spalle e gomiti protetti grazie alle protezioni C-Smart livello 1. Il costo al pubblico sarà di 199 euro dal 1 marzo 2018 nei migliori negozi d'Italia. Grazie a tutti.